Continua in area vestina a tener banco la polemica riguardanti i lavori di adeguamento sismico presso gli istituti superiori presenti sul territorio di Penne. Nelle ultime ore botta e risposta tra l'assessore comunale Giuseppina Tulli ed il segretario del PD pennese Andrea Vecchiotti. L'assessore punta il dito contro il PD provinciale, reo di essersi schierato contro la città di Penne, diffondendo notizie false sulla condizione dell'edilizia scolastica. Pronta la risposta di Vecchiotti che invita i consiglieri provinciali a dare delle risposte agli studenti, agli insegnanti e da tutti coloro che nel mondo della scuola ci lavorano. A far chiarezza sulla questione è direttamente il presidente della provincia Antonio Zaffiri, il quale rassicura che anche dopo il 28 febbraio nessun finanziamento andrà perso. Nella maniera più assoluta non sono a rischio fondi sia per la progettazione che per la realizzazione. Sono fondi Cipe per il tramite dell'USRC di Fossa e subentrata un'altra delibera Cipe 32 del 2019 dove ha stabilito che questi fondi Cipe passano per il tramite dell'USRC di Fossa. Dov'è che vogliono strumentalizzare? Sul fatto che noi abbiamo chiesto altri fondi per la progettazione perché volevamo cumulare con i fondi già esistenti per liberare delle risorse e fare dei lavori in più. Siccome è uscito questo bando ad agosto luglio e agosto 2019 abbiamo colto questa opportunità e loro ci hanno messi a finanziamento. Quando abbiamo chiesto chiarezza se potevamo cumulare e ci hanno detto no non potete cumulare perché già avete fondi per la ricostruzione e per la progettazione non potete cumulare. Allora abbiamo rinunciato. Penso di aver fatto chiarezza e voglio suggerire a qualcuno di trovare un informatore migliore all'interno della provincia perché trovare un informatore che poi non sa leggere e ne scrivere è un problema perché poi crea problema alla collettività.